Io ritengo che i comuni debbano essere il pilastro centrale di un progetto di cambiamento, di riordino istituzionale, di governo, di servizi fondamentali, quali i rifiuti, le acque e i fondi dell'Unione Europea. Partiamo da qui, non a caso stamattina perché io assumo nel mio progetto i comuni come centrali perché senza partire dai territori con i soggetti che ne rappresentano i bisogni, ne rappresentano le ansie delle comunità e soprattutto hanno un ruolo di programmazione dei territori, e quindi non si va da nessuna parte. Ecco perché ritengo che in questa fase costruire un progetto di cambiamento significa innanzitutto avere un governo della regione adeguato, un consiglio regionale che deve avere centralità, ma significa anche avere soggetti come gli enti locali e le forze sociali, io aggiungo, come protagonisti di un grande impegno per costruire la nuova Calabria.